Potrebbero aggiungere anche tante altre epiche da poter... Oggi iniziamo shoppando su StumbleGuys Ovviamente sappiamo quanti gettoni Stumble abbiamo e quante gemme abbiamo Ma guardate cosa hanno appena aggiunto La leggendaria Sprinkles che è bellissima Quindi, campioni, benvenuti e bentornati in questo nuovo video Oggi voglio comprare tutte le nuove skin che sono appena uscite all'interno dello shop Quindi, fino a quando non troveremo la nuova speciale Nyx Ametista Noi rimaniamo all'interno della nostra ruota di StumbleGuys Quindi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video Non vedo l'ora di trovare la nuova skin speciale Perché, ragazzi, se che mi interno hanno aggiunto sia Sprinkles che l'abbiamo appunto appena shoppata Abbiamo rischiato comunque di trovare una speciale Ma nel video di ieri, ragazzi, ne abbiamo trovata un'altra E spero oggi di continuare in questa streak incredibile Voglio assolutamente la nostra nuova speciale Che ci sta continuando ad andare un po' avanti e indietro, eh Sta continuando a comparire Comunque, anche il re leggendario abbiamo trovato E piano piano, quindi StumbleGuys integrerà tutte le nuove skin speciali Che ho fatto vedere anche nello shorts di oggi Vediamo, vediamo, vediamo Eh, ragazzi, sarà tosta trovarla Sarà molto tosta Ma noi abbiamo 2600 gettoni Stumble da poter utilizzare Nel caso non la trovassimo in tutti quanti questi giri della ruota Giocheremo contro gli hacker con Sprinkles Che comunque è una skin che a me piace tantissimo Ma lascerò un cuoricino nei commenti A chi indovina a quale gioco è ispirata la skin Sprinkles Vediamo se riuscite a indovinare a quale gioco si ispira questa skin qua Andiamo a vedere un po', perché vediamo cosa hanno aggiunto Hanno aggiunto, oltre che a Sprinkles Vediamo se c'è qualche altra nuova skin epica No, eccola qua Lei, Nyx Amethysta È veramente, veramente bellissima E non vedo ora Voglio assolutamente trovarla Quindi riproviamoci Altri giri della ruota con i nostri gettoni Stumble Sarà difficilissimo da trovare Già in generale trovare una speciale ragazzi è tostissima come cosa Ma noi proviamoci Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante Questa è già la seconda ondata Quindi arriveremo a 20 giri di ruota Vediamo quanti giri possiamo puntare Magari già 50 in questo video Eh, meno male che comunque non abbiamo trovato lo speciale Schettro Se no avremmo diminuito tantissimo la probabilità di trovare un'altra speciale Ma comunque eravamo tanto così vicino a ottenere 700 gettoni Stumble Da portarci con noi in saccoccia Vediamo, speciale Drago se ne può anche andare a quel paese Va bene ragazzi Tutte quante doppione epiche Perché con me ne abbiamo già quasi tutte quante Però, uh, è passata appena adesso davanti Dannazione Lorenzis Un saluto da te Il nostro piccolo pinguino nucleare Però Vediamo qua Un'altra leggendaria No, un'altra epica Dai, ti prego Nyxamethista Ti prego, ti prego, ti prego Devi arrivare da noi Perché ti voglio assolutamente utilizzare contro gli hacker Eh, no Non mi interessi neanche te La vedo È nella ruota È nella Ah, è appena passata Dannazione Allora, quanto sarà difficile ragazzi Trovarla Così Al primo colpo tra le speciali Eh, sarà molto difficile Abbiamo anche da trovare Super Gal Ricordiamoci di questo dettaglio Ma Dobbiamo proseguire Facciamo la solita tecnica nostra ragazzi Andiamo nei server Asia E mettiamo anche il gioco in inglese Vediamo se magari In qualche modo Questa cosa qua funziona Ricarichiamo la nostra barra E via Altri dieci Giri Di ruota Ti prego Ti prego No, leggendaria Vabbè, va bene, va bene, va bene Ci può stare Ce l'abbiamo già Ci serve Super Gal Non Super Guy Però va bene, va bene così Prossimo giro Abbiamo Among Us Blue Ok Ci posso stare ragazzi Prossimo giro ancora È nella ruota L'ho vista, eh No, dai ragazzi Per favore Un'altra Among Us Blue No però, eh Così Il doppio di no Va bene però ragazzi Con calma Abbiamo il Bigfoot Non mi interessa neanche lui Vediamo chi altro potremmo trovare È lì ragazzi Continua a comparire lì davanti ai nostri occhiettini Ma è veramente difficile Poter trovare così al primo colpo Sarebbe leggendaria come cosa Può essere Ma noi comunque ci proviamo Nel caso Questo è il trentesimo giro Che andremo a fare Andiamo a fare anche il quarantesimo E poi andiamo subito in parità A testare la nuova skin di Sprink E poi Riproviamo ancora con qualche giro Magari Leggendaria del re Cavolo Questa qui era l'ultima leggendaria Che ogni volta mi mancava Adesso la trovo sempre Comunque C'è Nix Ametista nella ruota Ma ancora non ci compare Oh ma ragazzi Ma dove l'hanno messo tutte le speciali Hanno diminuito Il fatto che Le possiamo trovare nella ruota Perché sto trovando Un sacco di giri Dove mancano proprio Di slot delle speciali Va bene Va bene Va bene così Altri dieci giri E poi andiamo A provare Sprinkles in game Contro qualche hacker Però proviamoci Crediamoci ragazzi Noi possiamo trovare Nix Ametista Quindi La nuova speciale di Stumbleguys Era tantissimo tempo Che non aggiungevano skin speciali Quindi Siamo qua ragazzi Per poterla trovare No Il gatto epico Non ci interessa Questa versione qua Ma uno in particolare Che non abbiamo Ci interesserebbe molto Ma Leggendaria Dai ci posso stare Leggendaria Dai ci posso stare Vediamo qual è il prossimo Prossimo giro Non vedo nix Non vedo nix Quindi niente Non ci interessa nulla Qua dentro Qual è il prossimo 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 Giro Eccola Continua A passarci davanti Agli occhi Ragazzi A dirci Per ora Non mi puoi avere Vediamo Vediamo Ah Ancora nulla Sottomarino No Non lo voglio Voglio nix Non mi interessa Delle altre skin Voglio solo nix Qua il leone leggendario No Ancora questo amongasino blu Basta Ce ne ho 800 di questi Niente ragazzi Niente Siamo vicini anche alla speciale Del samurai Ma nulla Nix c'è L'ho vista L'ho vista Leggendaria Ma Secondo me hanno tolto Uno slot delle speciali Comunque Ma andiamo in partita Ok Questo codice qua Che ho appena inserito Dovrebbe essere un codice Di un hacker E infatti Già ci fa trovare Così una bella lobby E non sarebbe per niente male Magari fare un block dash Con le nuove skin Magari o C'è qualcuno che ha anche Nix o ametista Chiamiamola solo ametista Ok Block dash Vediamo se abbiamo Delle skin nuove No Credo che io sia l'unico Con la skin nuova E comunque vedo che non si possono Neanche utilizzare le motte E siamo già in una super finale Molto interessante Come roba A parte che essere in così tanti È un gran problema Soprattutto in block dash Perché All'inizio Si blocca Vicendo È un grandissimo Enorme problema E soprattutto all'inizio La gente non muore Dannazione a voi Dannazione Però Con calma Proviamo a giocarla per bene Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosina Anche perché Voglio anche guardare un attimino Meglio la mia skin Perché la mia sprincola Ragazzi È fighissima Ma quant'è bella Pensavo fosse fatta onestamente Molto peggio Ma in realtà è fatta super bene Molto bene come cosa Me la giuro ragazzi Mi ha sorpreso tanto Come è strutturata la mia skin Carina Carina Però Proviamo a giocarcela per bene Con calma Proviamo a portarcela più o meno a casa Per quello che riusciamo a fare Anche che siamo in 12 milioni Non ci sono le motte Il che è anche una cosa positiva Vorrei dire ragazzi Però Calma Calma Ok Ok Siamo più o meno a metà della partita A livello di persone eliminate Quindi ancora meglio Meglio anche il fatto Non ci sono le motte Quindi Stiamo molto 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 attenti Calma Saltiamo anche da questo lato Non voglio provare a buggare nulla Perché ho paura di queste robe Quindi Stiamo tanto attenti Ecco Questa qua è la parte di cui ho più paura Quindi calma Calma Ok No Calma Ok No non ce la faccio Dannazione Non ce l'ho fatta Vabbè Sono stato eliminato come tipo Sest'ultimo Però ogni volta che trovo Questi spungiglioni È un gran problema Però noi siamo qua solo per lei Per la nostra piccola Amettista speciale Quindi riproviamoci Con altri bel po' di giri Perché sono curioso E voglio trovarla Assolutamente Quindi qua Un'altra leggendaria Sarà difficilissimo Trovarla ragazzi Sarà super Iper mega difficile Però proviamoci Vediamo se riusciamo a fare Qualcosina in più Vediamo se riusciamo a trovare Perché potrebbero raggiungere Anche tante altre epiche Da poter Nooo Nooo Eravamo vicinissimi Eravamo vicinissimi Eravamo vicinissimi Non ci voglio veramente credere Ragazzi Non ci voglio veramente credere Eravamo super vicini Alla nuova skin Speciale Diametista E invece no Il gioco è andato In là di uno Mamma quanto ci ho creduto Mamma quanto ci ho creduto Non darmi questa speciale Perché non la voglio Perché impazzisco Però cavolo Non ci credo Non ci voglio veramente credere Ragazzi Che tristezza Dai Va bene La troveremo La troveremo Eravamo tanto vicini Vuol dire che la troveremo Prima o poi Il gattino che non ci interessa Perché ci serve l'altra epica Dannazione a loro Dannazione Dannazione a loro Altri 350 Stumble coin Vediamo cosa riusciamo a fare Un'epica che non ci interessa Ok Vediamo qual è il prossimo Vediamo qual è la prossima skin Che ci vuole No 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 Non voglio quella speciale Non la voglio Voglio no Voglio ametista Non volevo quella speciale E adesso non ce la darai mai più Una speciale ovviamente Ma guarda te Ma guarda te Io non ho veramente parole Io non ho veramente parole Eravamo a tanto così da ametista E invece no Vabbè Vediamo ancora qua Se riusciamo a trovare qualcosa È interessante Il diavoletto blu Che già abbiamo ovviamente Perché le epiche Non le cambiano da almeno 10 mesi Che non cambiano le epiche Le ruote Un'altra speciale No ragazzi Sarebbe leggendaria Sarebbe stato Assurda come roba Ma anche un po' troppo esagerata Vediamo qua Super gun Non c'ha regala neanche a piangere Però va bene così Qual è il prossimo Vediamo Vediamo la prossima skin No niente ragazzi No niente ragazzi Che sfortuna Che sfortuna Che sfortuna Qua leggendaria No Abbiamo il piccolo sottomarino Vediamo No niente Vabbè Almeno ci rientriamo un po' Con gli stumble coin Ma direi Facciamo gli ultimi 10 giri di ruota Ragazzi Andiamo a tipo a 60 Cioè sono quasi 100 giri di ruota Per trovare Quella danatissima skin Che è stata schifata Di tanto 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 così Va bene Va bene stumble Questa cosa qua io me la segno Al dito eh Vediamo qua cosa riusciamo a trovare Questo forcellino che non ci interessa C'è Amethista in questi giri C'è Amethista in questi giri Ma è già andata troppo velocemente Ah che peccato Che amaro Che abbiamo ragazzi Mamma mia Eravamo proprio sopra Eravamo proprio sopra La skin che volevamo Ed è scappata così Dannazione 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 Leggendaria No Robottino Che solitamente porta fortuna Robottino Però Vediamo Cosa altro troviamo Amethista appena andata via No niente ragazzi Niente non si riesce a trovare Il che è un gran peccato Amethista è andata via ancora Supergal Neanche a Supergal Ci dai Stumble Ma che t'ho fatto Per favore No Niente 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 Ci vuole dare il porcellino Leggendario Come ultime skin Vediamo chi andremo a trovare Ragazzi Vediamo No Un'altra epica Il teddy bear Epico E poi vediamo qua Per gli ultimi giri Epica 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 Il draghetto speciale Ci dava Niente Campioni Io direi che ci siamo andati Troppo 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 vicini Una speciale comunque trovata E anche il nostro Nuovo piccolo unicorno Sprinkles E anche se